arrivo quando piove piove un botto non vado nei terlizi né a mariotto domani mercoledì è già 18 rimango a casa e rimango nel salotto e suddivano perso la pazienza deve essermi caduta nella stanza e chi mi sta vicino la calpesta e cazzo questo drink è bastardo chi ci sta lei mi dice stè lui mi dice stè io rispondo c'è idea questo video smora al caldo l'hanno detto anche a te quindi vado in cucina e mi bevo un bel tè ma non è spagnia queste luci che cattò in ansia se manca crede se che ho tu testo vanno no 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 Grazie a tutti